Parola è registrata, io do avvio ai lavori di questa commissione di controllo, faccio l'appello e poi saluto gli ospiti. Pala Giorgio presente, Ballivo presente, Guido presente con delega di Battista, Giannotta presente, Citraro, non lo vedo, Citraro assente. De Matteis presente, Della Giorgia presente, Faggiano presente, Giordano Anguilla presente, Greco presente, Mariano Mariano presente, Finamore presente con delega Martini. Mele presente, Mola presente, Murri dell'Odiago assente, un attimo che rinomino il collega Giannotta che qua si chiama Osteriunione, quindi visto che siamo in streaming, ok l'ho rinominato. Poi Fiore assente, Occhineri presente, Orlando assente, Pasquino assente, Patti assente, Polibortone presente, Rotundo presente, Scorrano assente, Tramacere presente, Valente assente. Quindi ci sono 8 assenti, 17 presenti, la seduta è valida. Io ringrazio e saluto in apertura dei lavori i prestigiosi ospiti che abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi, ossia il Conservatorio di Lecce nella persona del Presidente l'Onorevole Marso, assistito anche dalla Professoressa Congedo e l'Avvocato Pietro Quinto che si collegano da due device diversi. L'Avvocato Pietro Quinto è in qualità di mio consulente esterno, non è la prima volta che ci reggia della sua presenza in commissione e si occuperà di un'analisi da me commissionata finale su quello che è stato l'iter di questo ex liceo musicale Schifa, per capire anche ad oggi di chi è la proprietà e quindi per arrivare a una statuizione finale dopo le tante persone che abbiamo udito in commissione negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Il Conservatorio invece è invitato per essere udito nella seconda parte della commissione in merito alle proposte di gestione che farà sicuramente in quanto massima autorità artistica e culturale del territorio, su quella che sarà la gestione successiva, futura, anzi direi quasi immediata, del Conservatorio. Quindi sostanzialmente una commissione che sarà divisa in due parti, la prima cura dell'Avvocato Pietro Quinto e la seconda cura dell'Onorevole Marso. Oggi ho avuto modo di invitare anche l'assessore del Comune di Lecce, Cicirillo, che vuole sempre essere giustamente presente e ascoltare i lavori della commissione, perché non si è però ancora collegata. Ho invitato anche la provincia di Lecce, la quale per l'ennesima volta, pur essendo intercorsi degli accordi orali, circa una sua presenza qui in commissione, oggi non è presente per la seconda volta consecutiva. Mi dispiace, e do atto insomma che mi dispiace questa situazione, perché è un problema che coinvolge direttamente la provincia, quello che stiamo ad affrontare. Abbiamo udito nel corso delle ultime settimane il Comune di Lecce, la Camera di Commercio, col segretario generale del Giorgio, abbiamo udito la fondazione Mito di Toschipa con il figlio di Toschipa, Junior, e abbiamo avuto modo anche, ho avuto modo di confrontarmi privatamente con il Comando dei Vigili del Fuoco, certificando questa cosa, ve la ribadisco, perché ho fatto un altro riscontro proprio ieri mattina, che l'edificio di cui parliamo non ha il certificato di prevenzione antincendio, e questo è grave visto che ci sono classi che fanno lezioni. Purtroppo l'unico ente che non ha risposto al nostro appello è l'ente provinciale, che è l'ente che si è arrogato il diritto di totale gestione di questo bene negli ultimi mesi e anche negli ultimi anni, sottovalutando di essere ancora parte di un consorzio di cui fanno parte anche il Comune di Lecce e la Camera di Commercio, che deve gestire insieme questo bene, visto che ad oggi non si è divenuti allo scioglimento di alcun consorzio, nonostante alcune manifestazioni di volontà che però sono rimaste lettera morte. Ora, io non vi voglio dire altro, cedo direttamente la parola all'Avvocato Quinto per questa prima disamina, e do atto della presenza del consigliere Gigi Valente, che si è collegato mentre facevo questa introduzione. Quindi metto presente il consigliere Valente, chiedo all'Avvocato Quinto di riattivare l'audio. Sono le 11.40, io direi che per le 13 possiamo passare alla seconda parte della commissione, quindi prego Avvocato Quinto. Deve però riattivare l'audio. È ok, ora è attivo, prego. Benissimo, allora, grazie presidente. Allora, sul suo incarico io ho fatto un accertamento documentale e giuridico della situazione del liceo Tito Schipa. E lo voglio prospettare alla commissione perché può essere una base di dibattito. Allora, un momento di pazienza in questo escursus. Con il decreto prefettizio 24.494 del 23 novembre 1933 è approvata la costituzione del consorzio fra il Comune di Lecce, la provincia e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lecce per la fondazione in Lecce dell'Istituto Musicale con denominazione Liceo Musicale Salentino. Nel predetto decreto si dà altresi atto che sarà a carico degli enti, provincia di Lecce, Comune e Consiglio provinciale dell'economia, il contributo anno di lire 20.000 ciascuno e di lire 30.000 per gli anni successivi. Siamo al 1933. Con l'estratto di deliberazione del Podestà di Lecce del 6 giugno 1936 fu approvato il preventivo di spesa per le opere complementari e di rifinitura della nuova sede del Liceo Musicale sulla base di un progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Risulta che Tito Schipa si onerò di contribuire alla costruzione della parte muraria dell'edificio, mentre le opere di completamento dell'edificio, quali le opere indegno, ferro, eccetera, eccetera, nonché i lavori di lavoro, per complessivi lire 160.000 furono a carico per metà del Comune di Lecce e per l'altra metà della provincia. In data 23 luglio 1937 fu inaugurata la sede del Liceo Musicale. Con reggio decreto 1993 del 12 ottobre 1939, il Liceo Musicale Salentino viene pareggiato ai conservatori di musica dal 16 ottobre 1939. Nel 1970 il Ministero della Pubblica Istruzione autorizzò il funzionamento del Conservatorio di Musica di Lecce a decorrere del 1 ottobre 70. Da quella data il già istituto musicale Tito Schipa è passato alle dipendenze dello Stato assumendo la denominazione di Conservatorio Tito Schipa. Naturalmente parliamo della istituzione, non dell'immobile. Da quel momento il Conservatorio è stato disciplinato dalla legge di settore e dai regolamenti per l'istruzione artistica, nonché da apposita convenzione con cui si stabiliscono tra l'altro gli impegni degli enti sovventori per il funzionamento del Conservatorio. Il testo della Convenzione per la trasformazione del Liceo Musicale in Conservatorio fu deliberato dal Consiglio Provinciale all'epoca Presidente Gidio Grasso con atto 101 del 71, dal Consiglio Comunale di Lecce, Sindaco Salvatore Capilungo con atto 365 del 71 e dalla Giunta della Camera di Commercio Presidente Giuseppe Barbani con atto 407 del 27 971. La Convenzione fu approvata con modificazioni dal Ministero e fu stipulata dagli enti in data 19 aprile 1972 con atto per notaio franco. Quindi dico subito che bisognerebbe cercare di recuperare questa Convenzione dell'atto notarile. Io ho cercato, ma gli eredi del notaio franco non hanno disponibilità di questi altri. Sono importanti alcune clausole della predetta Convenzione. Articolo 2. L'amministrazione provinciale si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato per la durata di 99 anni la nuova sede del Conservatorio che verrà costruita a carico della predetta amministrazione sull'area ceduta a tale scopo dal Comune di Lecce e secondo il progetto annesso alla presente Convenzione. L'amministrazione provinciale di Lecce assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile nonché quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi. Articolo 3. Il Consorzio degli enti locali sovventori si obbliga a cedere e a trasferire in proprietà dello Stato tutto il materiale, strumenti, mobili, suppellettili, d'ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, cimeli eccetera esistenti nell'istituto ex liceo musicale di Toschipa elencati nell'inventario allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante. Articolo 10. Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli originari dei conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'istituto musicale pareggiato Tito Schipa. Articolo 11. Passaggio del personale dall'ex liceo al conservatorio. Articolo 14. Gli studenti dell'istituto Tito Schipa passano direttamente a far parte del conservatorio. L'articolo 15, che è importante, stabilisce la durata della Convenzione per anni 99 ed altresì che le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima. Nel tempo sono state ovviamente emanate le riforme del settore che hanno riguardato il conservatorio Tito Schipa e quindi su questo poi eventualmente interverrà l'onorevole Marzo e la direttrice del conservatorio. Perché è chiaro che la legislazione successiva ha modificato il quadro giuridico e anche dei rapporti in qualche modo con il consorzio. Con contratto d'appalto del 18 gennaio 2011, la provincia di Lecce ha affidato i lavori di ristrutturazione dell'ex liceo musicale di Tito Schipa ad una società per l'importo di 658, 1208, eccetera, al netto del ribasso d'asta e via dicendo. La consegna dei lavori è avvenuta in data 3 marzo 2011. L'ultimazione dei lavori doveva avvenire il 28 marzo 2013, tuttavia già in data 25.1.2013 la provincia lamentava con propria nota un ritardo nell'ultimazione dell'opera. A questo punto dobbiamo entrare nella attualità. Con nota del 10 ottobre 2014, il presidente della Camera di Commercio di Lecce ha comunicato alla provincia di Lecce e al comune di Lecce l'assenso all'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile al fine di procedere alla definizione dei reciproci rapporti patrimoniali fra gli enti. In quella nota però, il presidente della Camera di Commercio fa riferimento ad un incontro con i rappresentanti degli enti consorziati ai fini dello scioglimento del consorzio e chiede che venga convocato il gruppo tecnico di lavoro già costituito fra gli enti consorziati al fine di addivenire allo scioglimento del consorzio secondo l'atto di indirizzo deliberato dagli stessi. Per quanto mi concerne non ho traccia di tutti questi atti, ma le varie amministrazioni dovrebbero rintracciarli se esistenti e se hanno avuto un qualche seguito. A questo punto, ripeto, non si ha notizia dell'effettivo scioglimento del consorzio e quindi dovrebbe essere effettuata questa ricerca. Se poi non si fosse verificato lo scioglimento del consorzio, la proprietà dell'immobile, a mio avviso, rimarrebbe in testa al consorzio con tutte le obbligazioni conseguenti. Una ultima precisazione. Mi era stato dato un certificato catastale che si ipotizzava potesse essere riferito all'immobile del liceo. Foglio 259, particella 3977, consistenza 9465 m2. Sito, si legge nel certificato, in via Taranto. Ulteriori ricerche che ho fatto fare presso il catastro, relative al foglio 259 sul mappare individuato, il liceo musicale invece risulta con le particelle diverse, 3978, 3980, 81, 82. La particella 3977 riguarderebbe invece un immobile sito in via Casotti e quindi non c'entrerebbe niente con l'immobile in questione. E però bisognerebbe, questo è il mio suggerimento, affidare ad un geometra di incarico di andare all'ufficio del catastro per trovare dei riscontri documentari, ammesso e non concesso, che vi sia stato un accatastamento dell'immobile o comunque, questo sì potrebbe esserci, un accatastamento del terreno sul quale l'immobile fu costruito. Questo è quanto io ho rinvenuto dal punto di vista documentale e poi per le conclusioni attendo quelli che sono i contributi della Commissione. Grazie. Grazie, grazie Avvocato Quinto, grazie mille. Anche concluso prima del tempo previsto, così avremo più spazio per il dibattito eventualmente dopo. Nel frattempo do atto della presenza del consigliere Costantini d'Alsante che è a delega del consigliere Murri dello Diago. Ora, fatta questa ricostruzione, che mi auguro sia quella finale, dopo un attento studio fatto dalla Commissione e poi soprattutto all'Avvocato Quinto che attesta l'esistenza ancora oggi di questo consorzio, quindi il fatto che la proprietà non sia in capo esclusivamente alla provincia come dichiarato dalla stessa amministrazione provinciale che però latita nelle nostre commissioni controllo, cedo ora la parola all'On. Masso che rappresenta il Conservatorio di Lecce, affinché ci dica la sua intanto sulla proprietà del conservatorio e sulla ricostruzione che la Commissione controllo, avvalendosi non ultimo dell'Avvocato Quinto, ha fatto, e poi che ci possa dare delle proposte in merito alla gestione futura, proposte che ovviamente dovrà ricevere anche il Comune, essendo proprietario a questo punto, oltre alla provincia della Camera di Commercio, dell'immobile di cui parliamo. Dopodiché abbiamo due personalità pregevoli in Commissione e potremmo aprire un dibattito fra consiglieri, qualora qualcuno volesse porre delle domande. Prego, onorevole Marzo, la parola è concessa. Presidente, solo per la presenza della sostituzione muore. L'ho detto, Avvocato Costantini, l'ho detto, l'ho detto prima. Ringrazio il Presidente Pala che ha avuto la sensibilità di affrontare questo annoso problema che ci sta travagliando da anni. Non vorrei fare una sorta di polemica e alzare polveroni come sono stati alzati in questi mesi, in questi anni. né dobbiamo fare delle operazioni, diciamo così, di additare su Tizio, Cai e Sempronio alcune problematiche che sono state sollevate maldestramente. Io voglio dire soltanto questo, che noi non abbiamo nessun tipo di rapporto più con la provincia di Lecce. Nel momento in cui c'è stata la legge del Rio, nello scioglimento delle province, quindi tutte le utenze, tutti i problemi che prima erano a carico della provincia, adesso l'affrontiamo direttamente. Quindi non c'è più un cordone ombelicale tra il conservatorio e la provincia. La provincia, non accortosi di ciò, ha fatto un bando l'anno scorso per inserire il suo candidato come rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Lecce. Sollevando un problema, diciamo così, anche giuridico, credo che la presenza dell'Avvocato Quinto qui ci può dare una mano, ci può dare un riscontro più approfondito rispetto alla situazione passata, perché noi, non avendo più un rapporto con l'amministrazione provinciale, la provincia si è arrogato il diritto di nominare un rappresentante che, secondo la mia versione, la mia posizione, è subiudice, cioè non rappresenta più la provincia nel momento in cui non abbiamo più nessun tipo di rapporto. Questo è il primo problema. Per non creare un caso su Belli, noi come amministrazione del Conservatorio abbiamo creato una situazione, diciamo così, pro bono pacis, in modo tale che non ci siano conflitti di interesse nell'interno del Conservatorio e dell'amministrazione provinciale. Dico di più, nel bando c'è una precisazione che molte volte la provincia non tiene conto. Nomina persone che hanno conflitti di interesse, cioè gente che, persone, candidati, che sono nel mondo della musica e quindi possono creare situazioni di conflitto di interesse tra l'amministrazione provinciale, il candidato e il Conservatorio. Quindi non c'è trasparenza in questo tipo di rapporto. Quindi su questo noi abbiamo interpellato anche il MUR, il Ministero dell'Università di Ricerca, hanno detto questo è un problema che riguarda direttamente voi come Conservatorio, perché è un problema che riguarda il rapporto tra l'amministrazione provinciale e il Conservatorio. Questo è il primo punto. Io mi sono collegato direttamente, rapportato, all'analisi, alla ricostruzione fatta storica e anche giuridica da parte dell'Avvocato Quinto che ha fatto puntuale la sua ricostruzione e va a lui il merito anche di aver chiarito molti punti oscuri di questa vicenda. L'altro problema che il Presidente Pala ha sollevato è che l'amministrazione del Conservatorio in questi anni ha sempre, non dico rivendicato, ha sempre detto che l'ex liceo musicale Tito Schipa per la sua missione che è stata imposta da parte della sovrintendenza nel momento in cui si doveva ricostruire, rimodernare l'ex liceo aveva messo una clausa ben precisa. La missione dell'Istituto è una missione culturale musicale quindi non didattica quindi chi pensa che l'Istituto ex liceo musicale Tito Schipa abbia funzioni didattiche sbaglia perché è tutta una missione culturale e quindi da creare Mi scusi se la interrompo onorevole qua ci sono proprio delle classi mi risulta di un liceo vicino il liceo palmieri che ci fanno lezione ora ora sono in dad però nel corso dell'ultimo anno ci hanno fatto lezione regolarmente da almeno un anno a questa parte e tra l'altro ripeto perché non è di poco conto in un edificio dove manca il certificato dei vigili del fuoco di prevenzione antincendi seconda cosa ancora più grave questo giusto è una parentesi che volevo aprire e chiudere durante il suo discorso prego no questa non è una parentesi è un problema serio perché bisogna capire chi che ha dato lo IUS il diritto di occupare la provincia la provincia la provincia deve decidere che non può essere totalizzante in questa in questa discussione in questa in questa situazione in cui ci troviamo perché la provincia deve fare i conti con il comune di Lecce e probabilmente anche con la camera di commercio quindi col vecchio consorzio però la provincia sta passando come un come si può dire a carro armato su questi problemi non tenendo conto di diversi interlocutori e molte volte anche Bacchetta chi tenta di far dei discorsi più seri come li stiamo facendo stamattina con la commissione da lei presieduta io nei momenti in cui il ex delegato ai lavori pubblici il pazio Antonio Morciano fece la mappa di tutti i beni della provincia disse chiaramente che il conservatorio era l'interlocutore privilegiato per il liceo classico il liceo musicale di Toschipa perché? perché aveva questa cifra cioè la peculiarità culturale musicale su questo terreno io mi sono mosso insieme ai diversi interlocutori per creare una situazione diciamo così di nuova gestione creare una sorta di hub musicale culturale sempre a livello non soltanto liceo ma salentino o ionico salentino avendo a disposizione il conservatorio il conservatorio poi è una sede staccata anche a Brindisi a Taranto non c'è un conservatorio ma c'è una situazione barreggiata quindi ci trovevamo di fronte a una situazione unica nel territorio ionico salentino quindi il conservatorio spingeva per creare un hub in modo tale che potesse essere il liceo musicale di Toschipa un punto di riferimento molto importante a livello come ho detto poc'anzi e non voglio ripetere più culturale musicale e quindi aprire le porte per creare un museo su Tito Schipa su tutta la storia di Tito Schipa perché non possiamo escludere tutta la storia di Tito Schipa tutti i beni che c'ha Tito Schipa tenendo presente che i beni di Tito Schipa sono divisi tra il Tito Schipa Junior e la famiglia Carluccio quindi sono beni molto importanti che potrebbero essere inseriti nel nel liceo l'ex liceo in modo tale da creare un museo ad hoc per il grande tenore leccese nell'interno del questo liceo potrebbe entrare anche la Oles l'orchestra Oles che ha una importanza notevole su Lecce e un privato ha una collezione di strumenti musicali che partono dalla pre-storia per arrivare ai nostri giorni che potrebbe essere bellissimo inserito in questo liceo quindi potremmo fare del liceo insieme al conservatore tutte le strutture musicali una sorta di hub ma non una non non un ranservaglio come è stato sollevato detto qualcuno negli interlocutori qui non presenti cioè vogliono creare del come se fosse un un albergo uno entra e l'altro esce delle associazioni che non hanno nessun titolo invece diciamo così è un monumento importante che non può essere portato alla a tutti quanti come se fosse una sorta di foro boario della della musica locale e anche nazionale internazionale quindi il problema che io voglio dire che l'unico strumento l'unico soggetto su cui stavamo lavorando era la fondazione una fondazione che come si sa ci vogliono capitali il conservatorio era disponibile a mettere la sua quota ci siamo rivolti anche a delle banche le banche erano disponibili per entrare in questa fondazione e tanti altri interlocutori che non faccio nome per discrezione quindi non posso mettere nomi che francamente non sono in questo momento la nominare quindi si stava costruendo questo soggetto importantissimo nel momento in cui questo questo ricevo musicale veniva ripreso dalla diciamo così e rilanciato all'interno della realtà salentina questo era l'impegno che ci siamo presi noi come conservatori non volevamo essere egemoni ma trovare una soluzione di come si può dire di rapporti con le altre realtà importanti principalmente con la regione da questo discorso della fondazione non può essere tagliata fuori la regione perché ci vogliono capitali come si fa a gestire una nuova realtà come il liceo musicale Tito Schipa senza fondi come si fa a usare questo liceo in una maniera così capodica come qualcuno pensa ci vogliono capitali ci vuole le utenze spese notevoli per quanto riguarda la gestione il governo di questo quindi era l'unica soluzione la fondazione dopo di ciò quando abbiamo visto che nessuno teneva conto più di questa realtà ed era stata occupata e si rivolgevano a noi molte volte le porte del dell'ex liceo musicale Tito Schipa fino a notte tarda erano aperte fino alla mattina e chiamavano noi chiamavano me per dire ma perché tenete la porta aperta può succedere qualsiasi cosa non riguardava certamente noi come conservatori questo è il quadro che volevo fare quindi io sono sono disponibile a sentire a discutere con tutti voi grazie presidente grazie onorevole allora sostanzialmente io credo che questa commissione all'interno della quale ovviamente ora apro il dibattito nel caso in cui qualcuno volesse volesse intervenire questa commissione che conclude oggi un ciclo di cinque incontri in cui abbiamo ascoltato un po' tutti debba terminare i suoi lavori chiedendo ufficialmente all'amministrazione comunale di lecce di farsi promotrice di un tavolo immediato tecnico con tutte le parti in causa con tutti gli attori quindi con la provincia che continuano a rispondere alle convocazioni della commissione con il comune stesso con la camera di commercio e con il conservatorio oltre che anche con le due famiglie tra cui quella di Schipa e Junior che sono che detengono attualmente l'eredità del celebre tenore al fine di formare questo questo museo credo che questa sia la prima cosa che debba fare la commissione in caso contrario quindi qualora il comune non volesse essere il promotore di questo tavolo tecnico penso che tutti i commissari possano firmare una mozione da sottoporre al consiglio comunale in cui si impegnano il sindaco e la giunta a portare avanti questo tavolo tecnico perché a questo punto poiché la camera di commercio ha avuto sostanzialmente un cambio di idea prima voleva uscire dal consorzio poi ha detto qui in commissione invece che ne vuole fare parte e che è molto interessata poiché la provincia prima si è arrogata la paternità la unica proprietà dell'ex liceo Schipa ed oggi invece non è presente in commissione quando abbiamo scoperto che le cose in realtà stanno diversamente a questo punto rappresentando noi in questa commissione il comune di Lecce e non altri enti perché non possiamo arrogarci il diritto di parlare per altri enti che noi non rappresentiamo potrebbe essere la stessa amministrazione comunale e questo lo dico al presidente Marzo lo dico all'avvocato Quinto in seguito alla disamina che abbiamo sentito oggi potrebbe essere la stessa amministrazione comunale a farsi carico visto che è proprietaria al 33% mi sembra dell'edificio a farsi carico quindi della convocazione immediata di un tavolo tecnico tra comune provincia e camera di commercio cioè gli enti consorsiati insieme anche al conservatorio di Lecce nella persona appunto del presidente l'onorevole Marzo e alle famiglie tra cui quella di Toschipa Junior che potrebbero appunto concorrere alla realizzazione di questo museo il tavolo tecnico penso che debba essere urgente immediato mi dispiace che l'assessore Cicirillo oggi per la prima volta assente però la sentirò subito dopo quindi voglio dire convochiamo questo tavolo con le buone trasmettendo il verbale della commissione nel caso contrario faremo proprio una mozione in consiglio comunale per chiedere subito all'amministrazione di farsi promotrice perché mi sembra di capire che il vero errore fatto negli ultimi anni da cui possono derivare disattenzioni da parte di altri enti che per fortuna abbiamo risolto in questi cicli di commissioni il vero problema sia stato proprio una mancanza di attenzione dovuta a incontri che non si sono mai tenuti e ha citato l'avvocato Quinto questa lettera del presidente Prete del 2014 in cui chiede un incontro per eventualmente sciogliere il consorzio sono passati sette anni non mi sembra che si sia tenuto alcun incontro quindi questo è il grave problema non ci si è mai seduti tutti insieme a un tavolo per decidere come procedere coinvolgeremo proveremo a coinvolgere anche la regione e spero insomma e questo lo chiedo all'onorevole Marzo e all'avvocato Quinto che la conclusione della nostra commissione questa idea questa mia proposta possa essere tecnicamente e giuridicamente valida penso che sia l'unico modo per uscire per sbrogliare la matassa quindi chiedo brevemente all'avvocato Quinto e all'onorevole Marzo se sono d'accordo con questa mia idea conclusiva e poi cedo la parola a tre consiglieri che vedo prenotati quindi prego l'avvocato e l'onorevole di essere brevissimi nella risposta perché poi ci sono gli interventi di tre consiglieri prego avvocato levi il muto al microfono però perché non la sentiamo non la sentiamo lì è il microfono mutato avvocato c'è anche la senatrice Poli Bortone che vuole parlare dopo attivato? sì ora sì avvocato prego allora presidente devo fare un emendamento tecnico alla sua proposta se vogliamo ricondurre la questione in termini giuridico istituzionali la prima cosa che bisogna fare è dare continuità al decreto del 1933 approvato dalla prefettura di Lecce e quindi è un atto giuridico rilevante di costituzione del consorzio quindi il primo atto da fare è la convocazione del consorzio senza ulteriori così estensione di inviti perché verrebbe meno quello che il dato istituzionale e giuridico della questione la convocazione la può fare qualsiasi degli enti consorziati esatto però a livello di consorzio senza altre presenze perché dopo che avremo verificato diciamo la permanenza del consorzio e in ogni caso fatto valere la permanenza del consorzio perché se qualcuno contesterà l'esistenza del consorzio bisognerà passare alle carte bollate in buona sostanza e allora una volta che così manteniamo in vita il consorzio il consorzio come soggetto giuridico potrà assumere tutte le iniziative mentre invece se le facciamo oggi usciamo fuori da quello che è lo schema della organizzazione consortile e quindi creiamo elementi di confusione quindi la mia proposta è quella di avviare la convocazione del consorzio e all'esito poi assumere tutte le determinazioni ok grazie avvocato il suo contributo è preziosissimo proprio per per la valenza tecnica di ciò che dobbiamo che dobbiamo fare quindi per i consigli tecnici onorevole Marzo prego brevemente deve elevare il muto al microfono però mi sente? sì ora sì prego grazie sono perfettamente d'accordo con l'avvocato quinto il consorzio deve avere la sua validità la sua come si può dire consistenza giuridica e patrimoniale quindi su questo bisogna verificare dopo di ciò si possono fare qualsiasi passaggio passaggi per quanto riguarda i rapporti tra conservatorio e le altre istituzioni grazie grazie onorevole ci sono gli interventi dei consiglieri Mola Ballivo Giannotte e della senatrice Polibortone in quest'ordine di prenotazione cerchiamo di essere brevi perché se volete risposte sono le 12 e 13 quindi cercate di essere brevi nelle domande prego consigliere Mola io ho trovato utile queste commissioni perché hanno ci hanno consentito di avere contezza di una situazione complessa da un punto di vista giuridico di atti notarili e di costituzioni di enti e di consorsi mai sciolti e quindi ancora vivi io comunque a parte la proposta di Giorgio Pala di invitare di fare la mozione allora l'amministrazione e l'assessore della cultura è già ha già aperto un'interlocuzione con gli interlocutori quindi non è che il comune e l'amministrazione sia disattenta al problema anzi tutt'altro è impegnatissima su questo problema credo che abbia avuto anche ovviamente squilla il telefono credo che abbia avuto anche un'interlocuzione con altri soggetti con la famiglia Schipa quindi è aperta una discussione ed ovviamente fa bene l'avvocato Quinta a sottolineare come il primo momento è quello di definire ridefinire i confini della proprietà e quindi ricostituire il consorzio e poi la proprietà la proprietà che sarà poi quella che dovrà prendere delle decisioni quindi in questo momento sicuramente è questo il primo la prima la prima azione che deve essere compiuta da parte dell'amministrazione o di altro soggetto che faccia parte del consorzio quindi io direi è stato utile Giorgio va bene possiamo tranquillamente trasmettere gli atti all'assessore io penso che tu puoi sentirla anche direttamente non ci sono problemi in modo tale da evidenziarle un'esigenza e una proposta che viene di essere il comune primo attore della ricostituzione o comunque della riconvocazione del consorzio ma secondo me è come dire è bene che queste riunioni formali siano precedute da incontri ufficiosi che già si stanno svolgendo quindi è un iter già aperto è un iter già avviato e quindi sicuramente poi ripeto l'azione conoscitiva della commissione è stata utile e sicuramente potrai sentirti con l'assessore per andare a definire a comprendere a conoscere qual è il percorso dell'assessore che si è dato grazie grazie consigliere Mola sono d'accordo dal punto di vista comunale non da quello provinciale perché mi sembra che l'amministrazione provinciale non partecipi alle nostre riunioni assegni a licei classici vicini la possibilità di svolgere lezioni da dentro si vada ad arrogare si vada ad arrogare sui giornali la unica ed esclusiva proprietà quindi da parte del comune della camera di commercio non ho dubbi sulle buone intenzioni ma sinceramente da parte della provincia non mi sembra che le intenzioni siano queste però sì va bene grazie consigliere Ballivo Arturo prego grazie presidente intanto segnalo preliminarmente che io ancora pur se l'avevo richiesta nell'ultima commissione non ho ricevuto nessun atto per cui vado a memoria di quello che sento per cui è vero sono molto importanti queste commissioni perché intanto stanno mostrando alcuni aspetti della vicenda abbastanza particolari però insomma mi piacerebbe anche poter vedere la documentazione e che no no mi piacciono le ricostruzioni quella del l'avvocato Quinto è stata veramente puntuale complimenti e mi permetto anche di chiedere all'onorevole Marzo se in tutti questi anni perché adesso faccio una considerazione politica negli ultimi 20-25 anni di questo liceo se ne è occupati in maniera un po' fumosa alcuni l'hanno preso a cuore alcuni hanno fatto dei lavori alcuni no diciamo però non se ne è occupato tutta la cosa pubblica tutta la gestione della cosa pubblica in maniera organica io volevo chiederle onorevole se in questi anni ci sono stati degli atti del conservatorio delle sollicitazioni delle manifestazioni di interesse ovviamente che possono essere oggettivate nei confronti sia della provincia che del comune questo mi piacerebbe anche per avere un quadro più chiaro più completo della situazione quindi sostanzialmente questa è una cosa che mi piacerebbe avere e la documentazione la sollecito ancora una volta al presidente perché se no ripeto noi ci troviamo in difficoltà mi scusi pensavo fosse stare inviata già due convocazioni fa la mia colpa non mi è arrivato non è il primo se me lo dice va bene ok non è un problema non mi è arrivato nulla questa è l'altra cosa e poi senza ombra di dubbio come anche ha ricordato Ernesto Mola il nostro compito deve essere quello di sollecitare l'amministrazione perché si faccia promotrice di incontri di questo famoso consorzio certo mi è parso di capire che dal 2014 quando la Camera di Commercio sostanzialmente chiese di uscirne ecco adesso sto andando a memoria magari dico una cosa inesatta sono passati sette anni che non si è fatto nulla il che lascia molto perplessi grazie grazie collega Ballivo consigliere Giannotta poi Polibortone Giordano anche che si è prenotato in chat sarò veloce e schematico allora diciamo che dall'intervento del collega Mola diciamo è vero che l'amministrazione non ha mai interrotto alcuna interlocuzione però segnalo che noi siamo una pubblica amministrazione e noi sappiamo benissimo che le pubbliche amministrazioni si muovono per atti e procedimenti quindi mi domando se che in questo momento ciò di cui c'è bisogno sono sedute ufficialmente convocate ed eventualmente verbali di seduta legittimamente redatti non mi pare che alcun documento di questa direzione ci sia perché se ci fosse stato l'avremmo prodotto l'avremmo acquisito come atti di analisi fatto questa premessa quindi va bene tutte le forme di interlocuzione informali ma bisogna un attimino ridare senso a quello che il decreto ci poneva soprattutto al consorzio veniva chiamato e quindi un organismo un'istituzione che esiste e che deve muoversi secondo le regole su delle diciamo dinamiche di amministrativa per quanto riguarda allora io pongo abbiamo acquisito vado per punti allora innanzitutto cosa che avevo già detto la scorsa volta e conferma l'avvocato quinto che ringrazio per il suo contributo la scorsa volta dissi che in assenza di un atto uguale e contrario e che si chiamava atto di scioglimento del consorzio il consorzio era in vigore lo conferma anche l'avvocato quindi il consorzio a tutti gli effetti ha una sua soggettività giuridica e quindi una sua operatività e legittimità ad operare ciò che manca è proprio l'operatività allora oggi il tema è come l'operatività dall'altra parte oggi abbiamo un altro argomento che è come e chi soprattutto dovrebbe gestire il quell'immobile e quindi quindi abbiamo un contenitore e mancano i contenuti chi si dovrebbe far carico di questi contenuti la mia domanda a questo punto è questo fermo restando che nel primo caso del contenitore a noi come amministrazione interessa capire quali sono le quote visto che si parla di comproprietà le quote di proprietà in capo all'amministrazione comunale e così come ripartire provinciale il cambio di commercio se è il 33% ma ce lo siamo già detti per una valutazione interna anche nella prospettiva di bilancio a me interessa capire visto che il dottore Marzo il presidente Marzo lo ribadiva il soggetto che dovrebbe eventualmente offrire i contenuti mi pare così come dichiarato il presidente Marzo debba essere quella fondazione e poiché nel suo dire il presidente faceva menzione di quella che poteva essere il coinvolgimento anche della regione oggi io chiedo al presidente Marzo se ne è al corrente qual è la posizione del comune rispetto alla fondazione perché io non la conosco francamente devo essere chiaro e sincero da consigliere comunale non conosco qual è la posizione di comune rispetto alla fondazione ne fece cenno il figlio Tito Schipa Junior però poi non abbiamo capito se il comune qual è la posizione non conosco qual è la posizione magari il presidente Marzo potrebbe dirlo qual è la posizione della regione di un eventuale suo coinvolgimento all'interno di questa fondazione e ancor più non conosco né la posizione della provincia ma la posso delle sumo era attesa le dichiarazioni che il presidente ha fatto circa la diciamo non so francamente se intende aderire a questa fondazione o meno ma come anche non conosco la posizione della camera di commercio cosa voglio dire voglio dire che un soggetto giuridicamente valido come un consorzio oggi come primo atto di operatività dovrebbe porre come ordine del giorno l'eventuale decisione dei soggetti consorziali all'interno o meno della fondazione e di panare quella che è la situazione perché se così non fosse siamo in una volontà di stallo non in un'occasionalità di non sapere le cose e non sapere come muoverci detto questo io credo che merito ripeto a questa è una serie di iniziative oggi bisogna dare chiarezza a domande secche quindi con risposta altrettanto secche e mirate ribadisco qual è la posizione della comune qual è la posizione della regione qual è la posizione della provincia della camere di commercio rispetto alla fondazione dopodiché mi interessa capire e là un aspicio che sollevo dall'invito all'amministrazione comunale attivare convocazione formale dei tre soggetti camere di commercio comune e provincia con come con proprietari o meglio con titolari di un consorzio grazie grazie consigliere Giannotta e ovviamente presidente marzo avvocato quinto rispondono alla fine di tutti gli interventi dei consiglieri ora vuole parlare la senatrice Polibortone prego vi ricordo che sono le dodici e ventitré sicuramente andremo sì sì guardate sarò brevissima il tema della proprietà se l'è posto l'amministrazione comunale fin dal 2005 del 2005-2006 dovrebbero esserci ancora degli atti che riguardano appunto anche un dossier che fece l'architetto Elia che fu incaricato di vedere questa questione poi vedo che si è interrotto l'interesse anche oltre il 2014 senza risposta alla camera di commercio ma oggi mi pare che al nostro dibattito al nostro approfondimento sulla tematica l'avvocato Quinto abbia dato veramente moltissimi ulteriori elementi di conoscenza e uno che mi sembra molto importante è quello del quale se ho compreso bene purtroppo non abbiamo documentazione quello che riguarda la convenzione la convenzione e l'articolo 15 quindi la durata della convenzione per 99 anni perché nella convenzione ci saranno anche scritti quali possono essere gli obiettivi le funzioni i compiti di ciascuno degli attori definiamo gli attori perché a questo punto dobbiamo vedere quali attori effettivamente ci sono nell'ambito della convenzione stessa io credo credo anch'io che il consorzio vada gli attori del consorzio i partecipanti al consorzio vadano immediatamente convocati non legherei tanto alla fondazione perché la fondazione è un soggetto che innanzitutto è in divenire quindi si sta si sta formando non so ci sarà un comitato promotore qualcosa del genere ma piuttosto definire lo stato attuale se come dice l'avvocato Quinto ritengo che sia corretto il consorzio è ancora in funzione qual è la funzione reale del consorzio rispetto alla convenzione che è stata citata col ministero ecco io penso che questo sia assolutamente importante nel frattempo qualunque tipo di gestione prima che ci sia un chiarimento dovrebbe essere un attimino interrotto anche perché penso da un discorso del genere che comunque il conservatorio non possa essere assolutamente escluso ecco perché dico vediamo la convenzione che cosa dice perché ricordo che quella legge fu fatta proprio per evitare che ci fossero istituti soggetti diversi che pure avevano gli stessi obiettivi e quindi furono qualche modo uso impropriamente l'espressione inglobati diciamo in un unico soggetto che era per appunto il conservatorio dando al conservatorio maggiore spessore maggiore solidità e ulteriori anche funzioni quindi cerchiamo di rintracciare questa convenzione che laddove non dovessimo averla noi certamente il ministero ce l'avrà e quindi non avrà difficoltà a fornircela per vedere nell'ambito della riunione anche del consorzio come dobbiamo rapportarci rispetto agli obiettivi e alle indicazioni della convenzione stessa grazie oltretutto abbiamo questa difficoltà che ci è stato detto ricorderà il presidente Pala ci è stato detto che il conservatorio era nel nel bilancio cioè negli immobili di proprietà comunale e quindi avevo chiesto ma allora risulta tutto l'immobile nell'ambito del patrimonio del comunale oppure anche la provincia lo mette come immobile non pro quota ma come immobile nella sua proprietà e che naturalmente influisce poi sul bilancio e su una serie di situazioni che sarebbe bello chiedere alla provincia se ci onorasse di partecipare alle comitazioni di controllo forse gliela possiamo chiedere per iscritto anche se uno non risponde oralmente con la gentilezza lo chiede per iscritto grazie scusate prego considera Giordano Anguilla non si sente nulla consigliere io ne approfitterei per fare un'ulteriore domanda Presidente ha disattivato il microfono dell'aula sì allora un attimo che ok attiviamo quello dell'aula e spegniamo quello personale e ancora non si sente nulla consigliere Giordano sta riattivando il microfono dell'aula che era stato spento in precedenza quindi un attimo Presidente solo al volo giusto perché mi ero dimenticato mi risulta una riunione dei giorni scorsi della fondazione dove mi risulta sempre che abbiamo aderito comune provincia regione quale fondazione di quale fondazione di quale fondazione ce lo dire il Presidente Marzo quando risponderà alla fine ok si segna anche questa cosa il Presidente Marzo e poi ce lo dirà noi abbiamo partecipato a quella riunione come agenzia euro mediterranea non c'è stato 4 marzo mi pare vero? sì 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 c'è stato un incontro con l'avvocato della famiglia Schipa che ci ha fornito delle indicazioni di carattere tecnico per aderire alla fondazione come agenzia euro mediterranea abbiamo dato la nostra disponibilità gli altri si sono riservati perfetto quindi c'è stata grazie sì sì Presidente posso prego consigliere Giordano mi diceva? ok sì sì prego prego grazie Presidente sarò breve acquisita la ricostruzione fatta dall'avvocato Quinto mi piace sottolineare e ricordare come molti dei passaggi ascoltati siano simili se non coincidenti con quanto già illustrato nelle precedenti commissioni dalla senatrice Poli e questo lo dico perché quando i lavori con l'ordine del giorno la gestione appunto del Tito Schipa sono cominciati nella sua commissione il governo cercò di etichettarli subito come fuori ordine del giorno in quanto erano di competenza della provincia e quindi non avevamo titolo noi a trattare l'argomento quindi accolgo con piacere e accol tempo con stupore come alcuni colleghi si siano ricreduti e abbiano fatto marcia indietro sui propri passi dicendo che oggi i tavoli sono le tavoli necessari e dicendo che evidentemente il dialogo andava avviato va avviato e va rinforzato nelle prossime puntate per così dire quello che voglio sottolineare è una cosa che posto che probabilmente la provincia al contrario forse è l'ente che entra più di profilo in questa vicenda e non da protagonista forse lo sarebbe di più proprio il comune di Lecce il conservatorio e su questo mi trovo molto d'accordo con la senatrice non può non essere un interlocutore perché il conservatorio rappresentato proprio dall'onorevole Marzo oggi presente è di fatto l'organo che negli anni ha portato avanti il lavoro e l'organo che può dare risposte su molti aspetti di questa vicenda e poi permettetemi di dire anche l'organo che ha portato avanti da solo con le proprie risorse il proprio lavoro tutto ciò che era insomma il mondo della musica a Lecce e non solo e io ricordo quando in apertura insomma all'inizio del lockdown c'erano tanti problemi per la DAD per i trasporti anche perché il polo musicale prende anche non solo Lecce ma anche i ragazzi di Ceglie insomma hanno sempre portato avanti con le loro risorse e con il loro sudore il lavoro di quel mondo lì quindi sarebbe veramente irrazionale e contro ogni logica che proprio loro non venissero interpellati io sottoscrivo il suo appello presidente e insomma speriamo di poter ascoltare anche il parere della provincia che con la sua assenza reiterata nelle sue commissioni ha dimostrato poca cortesia e rispetto nei confronti dell'ente e di noi rappresentanti grazie grazie consigliere Giordano Anguilla soprattutto mi è fatto piacere il suo aver ricordato come tanta gente che durante la prima commissione mi dava del pazzo oggi invece conferma la valenza del consorzio e l'importanza del dover riunire i trenti consorziati per poi procedere a una gestione opportuna ora esauriti gli interventi dei colleghi consiglieri per concludere la commissione chiederei brevemente all'avvocato Quinto e al presidente Marzo di darci le loro conclusioni e di rispondere a tutta la serie di quesiti che qualche consigliere ha posto chi è all'avvocato chi è all'onorevole e così concludiamo anche i lavori della commissione quindi prego avvocato Quinto brevemente inizi lei per le conclusioni allora io vorrei essere molto preciso perché ho sentito molte cose che hanno certamente valenza politica e di prospettiva ma se vogliamo ricondurre tutto all'aspetto giuridico del problema dobbiamo fermarci ad un momento esclusivo il momento esclusivo partendo addirittura dovreste trovarla agli atti del vostro del comune la deliberazione del potestà di Lecce in data 22 luglio 1933 segnatevela approvata dalla G.P.A. in l'11 agosto successivo quindi sarebbe già utile se trovaste la deliberazione che vi legittima a parlare della materia in virtù di questa deliberazione voi partecipaste voi comunque partecipaste a questo benedetto consorzio ora l'unico soggetto giuridico che può oggi muoversi è il consorzio il discorso delle fondazioni degli altri soggetti eccetera è un discorso che non ha nulla a che vedere con l'aspetto giuridico della proprietà e del funzionamento dell'ex liceo musicale quindi se non chiarite questo si gira a vuoto e consentite a chiunque di creare confusione sull'argomento il punto di partenza è verificare l'esistenza del consorzio che io ritengo che esista e se qualcuno lo contesta contrastare questa tesi e cercare anche giuridicamente di far operare il consorzio una volta che il consorzio si siede intorno a un tavolo allora poi può decidere tutto quello che vuole per il futuro in termini di fondazione di ampliamento eccetera in questo momento non vorrei dire una cosa che non gradita ma per esempio in questo momento diciamo antecedente neppure il consorzio a voce neppure il conservatorio a voce in capitolo perché sono due soggetti completamente staccati e vorrei precisare non sono stato chiaro all'onorevole Poli che la famosa convenzione riguarda esclusivamente il conservatorio perché quella convenzione che nacque da un'iniziativa del ministero servì solamente alla istituzione del conservatorio su terreno fornito dalla comune e a spese della provincia e quel conservatorio andò allo Stato ed è gestito dallo Stato sicché la provincia non può neppure nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione con il rischio di rendere illegittimi tutti gli atti compiuti dal conservatorio quindi cerchiamo di essere molto chiari se qualche iniziativa bisogna assumere e io ritengo che avreste fatto riunioni inutilmente è quello di partire dalla vostra deliberazione di adesione al consorzio dal decreto del prefetto di ratifica del consorzio convocare può farlo il comune questa iniziativa convocare gli altri componenti del consorzio e all'esito di questa convocazione assumere le ulteriori determinazioni anche di natura giudiziaria se vi sono dei contrasti vi prego solamente per essere concreti effettivi di non confondere i piani perché riunioni con l'erede schipa riunioni con il conservatorio riunioni con la regione eccetera non hanno in questo momento nulla a che vedere sulla possibilità di agire nello schema giuridico che c'è il dato schema giuridico che abbiamo interesse a sostenere perché in virtù di quello schema noi possiamo ritenerci proprietari del liceo musicale e vi ricordo che c'è un altro atto che dovreste trovare del podestà del 1936 questi sono atti che tenete voi nel vostro artiglio comunale con il quale il comune approvò un progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale a proposito della costruzione del liceo musicale è più titolo di quello ai fini della proprietà e partecipò sulla somma complessiva di 160 mila lire per metà comune di lecce e per metà la provincia ora se prendete queste carte e utilizzate quelle carte farete una cosa positiva nell'interesse del comune tutto il resto ha una valenza politica ma in questo momento è estranea a ricondurre a norma quello che è il rapporto fra il comune di lecce e l'immobile del liceo musicale grazie grazie avvocato quinto di conseguenza la situazione giuridica è chiarissima e prego l'onevole marso ripeto che sono d'accordo al cento trecento con l'avvocato quinto e ha chiarito molti punti io voglio sottolineare che c'è stata una posizione totalizzante della provincia e soltanto l'intervento di questi anni del del conservatorio ha sollevato il problema del consorzio perché abbiamo tirato in ballo principalmente il comune di lecce questo questo punto rivendico personalmente perché mi sono battuto affinché lecce il comune di lecce intervenisse e credo la sensibilità del presidente Pala ci ha portato a questa indagine conoscitiva chiamiamola così sulla sulla situazione del istituto liceo musicale di Tito Schipa c'è molta confusione si parla molto di fondazioni Tito Schipa si sta muovendo su una fondazione ma questa fondazione è un fatto privato di Tito Schipa noi non siamo intervenuti perché siamo un soggetto pubblico e dobbiamo stare molto attenti a muoverci su questioni che prettamente non ci riguardano cioè posizioni che non interessano direttamente i conservatori quindi la fondazione di Tito Schipa è una cosa sua personale l'onorevole Poli Bortone che è presidente della sua associazione partecipa noi non possiamo partecipare né abbiamo partecipato a queste riunioni perché non possiamo essere un punto di riferimento di tutti quanti noi abbiamo una linea ministeriale su questa marciamo non possiamo certamente confondere il nostro ruolo pubblico con tante altre posizioni che possono venire dal privato quindi questo è il primo punto quando io ho sollevato il problema della fondazione di un governo del dell'istituto liceo musicale è stata un diciamo così una proposta che mi è stata sollecitata anche dalla stampa locale come poteva il conservatorio gestire governare il futuro del soltanto è stata una proposta così che finiva lì e non certamente era una proposta concordata con i diversi soggetti il problema vero qual è che fino adesso il comune di legge e la camera di commercio hanno fatto la bella addormentata nel bosco la provincia ha fatto la totalizzante di tutto quindi questo è il problema e ha fatto anche sul conservatorio un'intrusione illegittima quando ha chiesto a noi una rappresentanza nel consiglio dell'amministrazione nel momento in cui la provincia non è più un soggetto definito e né carne e né pesce perché non è passato il referendum quindi rimane in mezzo al guado e quindi non ha nessun tipo di diritto sul conservatorio questo voglio chiarire e credo che mi allaccio al problema che è stato sollevato dall'avvocato Quinto quindi per quanto riguarda la regione tutto il resto noi non possiamo intervenire se non abbiamo l'assenso dei soggetti che ci sono in questo consorzio lei deve chiarire il primo punto se partecipa o non partecipa a questo consorzio la Camera di Commercio deve dirlo e deve la provincia di Riffo di Raffa c'è già non c'è al 33% in questo momento è tutto alla provincia la provincia ha gestito per filo e per segno tutto quanto partendo dalla gestione RIA passando attraverso la gestione Gabellone mentre la gestione Pellegrino ha investito sul conservatorio infatti non ha curato l'ex liceo musicale ma ha puntato direttamente sul conservatorio aprendo al conservatorio un'altra ala importante perché il numero degli studenti era un numero molto crescente quindi avevamo bisogno in quegli anni di allargare questa è la storia io sono perfettamente ripeto d'accordo con l'avvocato Quinto di chiamare i soggetti del consorzio fargli esprimere su che cosa vogliono e su che cosa si basa la loro partecipazione e ringrazio il presidente Pala che ha avuto questa forza non più sensibilità di convocarci per discutere di questo è il nostro problema grazie grazie onorevole marzo ringrazio i commissari e gli ospiti di oggi e sostanzialmente noi procediamo così io sentirò l'assessore cicerillo per telefono affinché sia promotrice della convocazione urgente non di un tavolo tecnico a questo punto ma del consorzio affinché si dia seguito al decreto del 33 e poi dopo si può aprire un tavolo tecnico con le altre parti indicate a partire dal conservatorio fino alla famiglia schipa e quant'altro per procedere a parlare di gestione quindi sono due i punti importanti da fare ringrazio tutti i partecipanti Presidente mi scusi per una ulteriore precisazione è molto importante la immediata convocazione del consorzio anche perché in quella sede bisognerà chiarire un aspetto che potrebbe avere anche una sua rilevanza giuridica e cioè che improvvisamente l'amministrazione provinciale in virtù di finanziamenti regionali ha potuto come io vi ho raccontato fare un appalto ed eseguire lavori di ristrutturazione di quelli immobili e questo è una parentesi molto importante perché questa gestione dell'appalto doveva essere necessariamente del consorzio i finanziamenti regionali dovevano andare al consorzio a che titolo la provincia è intervenuto quindi bisogna chiarire anche questi aspetti perché poi non vorrei che si arrivasse addirittura ad una usucapione come quello che è successo per il palazzo dei Celestini da parte dell'amministrazione provinciale ai danni dello Stato quindi diamoci da fare e perché ripeto il comune deve difendere la sua storia i soldi che ha speso e la sua partecipazione a queste importanti istituzioni grazie grazie avvocato grazie onorevole marzo grazie commissari penso che sia stato l'incontro di commissione più importante sulla tematica quello in cui abbiamo finalmente messo dei punti fermi vi ringrazio procedo allo scioglimento della commissione termino lo streaming e avremo modo di aggiornarci prossimamente grazie a tutti arrivederci buongiorno grazie a tutti